Levante è una delle sorprese più gradite di questo X-Factor numero 11. È empatica, si emoziona, sprona le sue ragazze e riesce ad essere anche dura quando ce n'è bisogno. Inoltre va detto che è una ragazza molto bella, con un look particolare mai scontato. Il web la settimana scorsa è impazzito per il suo rossetto. Comprensibile quindi che possa scatenare la gelosia della fidanzata di uno dei suoi colleghi di scranno a X-Factor. Ovviamente si dice e si fa per ridere, ma Selvaggia Lucarelli, alla quale non sfugge mai nulla, ha pubblicato un divertente post su Facebook parlando di una foto di Levante e Fedez insieme che è poi misteriosamente sparita dal profilo Instagram di Fedez, dopo aver raccolto 13.000 like. Selvaggia ha immaginato il dialogo fra Chiara Ferragni e Fedez, che si è concluso poi con la decisione di lui di cancellare la foto. In effetti, nella foto incriminata che la Lucarelli ha ripostato, Levante e Fedez sono abbracciati, ma lui sembra parecchio a disagio. La cosa è stata notata anche nelle migliaia di commenti al post di Selvaggia, nei quali i fan si sono sbizzarriti. Sbirciando fra le stories Instagram di Fedez, si riesce anche a dare un'occhiata al nuovo studio di X-Factor e al corridoio dietro le quinte, dove accanto ai camerini dei giudici ci sono una serie di foto scattate durante le audition. In una di queste ci sono sempre Levante e Fedez abbracciati. Ci domandiamo se Chiara Ferragni l'abbia già vista.